L'occhino è scritto la letterina per Babbo Natale? L'occhino? Dov'è finito l'occhino? Non è ancora tempo di vestirsi Se lasciate un mi piace ci vestiamo con tutti gli abbigliamenti di Natale E vestiamo anche l'occhino Sei contento l'occhino? Dove sei? Wow 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 Cosa sta succedendo? Oh mio dio Si sta riaprendo la porta Nooooooo Si sta riaprendo Che cosa uscirà? Sarà qui l'occhino? L'occhino ecco ti Ciao papà Ti ho portato degli amici I miei fratelli Buon Natale papà Buon Natale L'occhino Dove ci porterà? Stella nera sopra di me Giardino bianco sotto di me Un uomo fatto di neve Ha chiesto il re Un curioso Natale Siamo finalmente fuori Quindi prendiamo un pezzo di carbone No carbone lo porta Babbo Natale e bambini cattivi E l'occhino non è cattivo vero? Prendo un bastone Ma questo è per fare il pupazzo Manca il corpo Come si fa un pupazzo di neve? Oh 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 Aspetta Abbiamo preso dei pezzi Forse dobbiamo farla rotolare Non ci credo Vai diventa più grande Andiamo là Andiamo nel grande posto Vai 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 Non cadere giù eh Dobbiamo far rotolare le palle Tututututu È quasi grande abbastanza Vai ancora un pochino Ancora un pochino Sì Abbiamo messo il corpo E guarda qua Ma io volevo farlo con l'occhino L'occhino dove sei? L'occhino non è che sei dentro qua Mi stai facendo uno scherzo? No papà Non sono qui dentro Ah ok Se non sei qui dentro Allora ci credo Facciar rotolare le palle No Non cadere No La mia palla di neve Uffa Dai pallina Tun 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 Io non vedo l'ora di che arrivi l'occhino Ma dov'è l'occhino? Dovevamo passare il Natale insieme Avevamo detto Questo sarà il Natale più bello Che abbiamo mai vissuto insieme Padre e figlio Invece Non c'è E no Non è qua dentro Aia Cosa L'occhino? Non ho tutto niente Allora prendiamo un braccio E gli mettiamo un braccio Oddio Gli posso Gli posso mettere un braccio in testa Aspetta Ne le metto un altro qua Ecco fatto Quanti braccio li posso fare? Stiamo creando un mostro Non voglio sapere che cosa succede Se prende vita sto coso L'occhino non fargli prendere vita Sto coso qua Te ne metto anche uno sul naso Ecco Et voilà Non è bello? Vero l'occhino? Sei bene lì dentro Non sei stato mica infilzato da 10.000 braccia Oh già E' dentro E' dentro Prendiamo un pezzo di carbone E gli mettiamo due belli occhiolini qua Ecco Uno e due E adesso ci allontaniamo un secondino E facciamo una foto Quindi apriamo Ecco qua Il rullino Esce Papà Mi hai fatto male E adesso ti riempie palle di neve E' guerra Ah si? E' guerra? Dove sei maledetto? Prendi questo Prendi questo Stupido Prendi questo tu Ti ammazzo Ti ammazzo No no l'occhino Fermo non è tempo di guerra No aspetta Ah Vedo le stelline Eh si l'occhino Te l'ho data di santa ragione eh Che palle Oh Le parolacce Di neve Ah le palle di neve E adesso? Cosa facciamo? Facciamo una bella foto va bene? Finalmente Io dicevo Facciamo una bella foto Padre e figlio Ti lascio qui eh Stai qui No non cadere Stai qua seduto eh Ti faccio una bella fotina Ah giusto La testa Come ho fatto a dimentichermi Della testa Ecco Riattacchiamo la testa L'occhino Vai sopra così Stai lì eh Ti faccio la foto Papà Cosa devi dire? Cheese Di qualcosa di più divertente Tipo Lascia un like Ok Facciamo Facciamo così l'occhino Allora Quando sei pronto eh Al 3 Scattiamo la foto Dovete lasciare un mi piace 1 2 3 Like Bellissima Prendiamo la foto Oh mio dio E forse è un negativo? Ok Perché sembra così inquietante L'occhino? L'occhino ha aperto la porta Seguiamo l'occhino L'occhino? L'occhino Dobbiamo andare a sviluppare la foto Perché si va nella camera oscura Andiamo nella camera oscura L'occhino dove sei? L'occhino mi fa paura così eh L'occhino? Da questa parte Qua? Sì Ma dove sei? Ah Per un momento pensavo mi parlassi nella testa Invece eri proprio qui vicino Come è venuta la foto? Avevo gli occhi chiusi? Non lo so A guardare la foto Sembra che Voi foste abbastanza cattivi Andiamo a sviluppare la foto Camera oscura Bisogna prima chiuderla Perché si chiama camera oscura Per un motivo E sviluppiamo Non vedo l'ora Si è finito Ho guardato le bolle Prendiamo il filmino E adesso lo mettiamo Qua dentro Oh mio dio È vero che questa era la macchina Che riproduceva Oh Guarda che bella Bellissima L'occhino dove sei? L'occhino Sei per caso? Eccoti Ciao È l'ora della pappa Ho fame Sì ma sai che latte Un po' lo devi tenere Anche per Babbo Natale Sei pronto a scrivere La tua letterina? Non ancora Non so ancora scrivere È vero È vero Uuuuh Pusa pusa Che pusa Che schifino l'occhino È proprio un gran puzzino Eh sì L'hai combinata Veramente grossa Bambino che puzza Eccoci qua Bambino che puzza Ce l'abbiamo Trova l'abito di Natale Al piano di sopra Andiamo a prendere il cappellino E finalmente ci possiamo vestire Anche noi Così che Non solo l'occhino Sarà vestito Da A L'avete visto? Era il pupazzo di neve Che abbiamo creato? Oh mamma Che paura Che paura Prendiamo il vestitino di l'occhino L'occhino il vestitino Ma sto pupazzo di neve Era già qui da prima Vuoi essere l'elfo Io Babbo Natale? Sì 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 Voglio essere un elfo Con le orecchie a punta C'è anche qualcos'altro A punta Che cosa? Il nasino Certo Oh che bello Sono un elfo Sono un elfo E adesso andiamo a prendere il tacchino dal congelatore Perché Dobbiamo Perché questo è Natale Buon biscottino Guarda che buono Hai scorreggiato? Io? No Io che scorreggio Guarda Buono Li vuoi anche tu? Nonno Ma li hai fatti tu? Sì Li ho fatti io Certo l'occhino Allora Dovremmo aprire il forno Ma che ne dici? Se mentre prepariamo da mangiare Non cantiamo qualche canzone di Natale Va bene Cantiamo Locking Bell Locking Bell? Beh Questa è bella difficile Allora Il tacchino dal congelatore Qua però Va che bel tacchino Va che bel tacchino Va che bel locchino Cosa facciamo? Mettiamo l'occhino O il tacchino Dentro il forno? Locchino Locchino Vuoi andare dentro il forno? E allora cantiamo una bella canzoncina Tu 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 Eeeh In le giocattole Ti strizzano in cartole Sul seggiolento stai Zitto non stai mai Sul pavimento piangerai E lì tu morirai Nel forno un bel arrosto No Tutti facciamo dai Eeeh Locking Bell Locking Bell Tu sei Locking Bell Wow, 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 fermo, fermo, mettiamo il sacchino in forno, però, chiudiamo il forno e adesso, sei progetti, ah, che è che suona, non abbiamo ospiti, l'occhino, vado a vedere io, va a vedere lui, va bene, chi potrà mai essere alla porta, papà, non abbiamo uno spioncino, effettivamente non abbiamo uno spioncino, apriamo, non sappiamo che c'è dietro, Tanto tu lo sai che sono un'arma di distruzione della morte di massa, effettivamente è vero, mi sento al sicuro, apriamo, I wish you a merry christmas, I wish you a merry christmas, robottino, ciao, quanto tempo, sei tornato e mi ha portato anche un regalo, un regalino, andiamo a prendere i regali, prendiamo la borsa e gliela portiamo dentro all'occhino, L'occhino è speduto le luci? Oh mamma, ma tutti questi pupazzi di neve non c'erano prima, hanno infelzato dei cacciavetti dentro, lui che suona la chitarra, lui col berrettino, questo, chissà, di chi sarà questo pupazzo di neve? E poi c'è lui, col biberone in bocca, ok, vi tengo d'occhio, eh, vi tengo d'occhio, non muovetevi, non è che se mi giro voi mi seguite, eh, fermi, ok, no, che poi mi giro le, eh, l'occhino, sei pronto? Mettiamo gli alberi sotto i regali, voglio dire, i regali sotto l'albero, mettiamo i regali sotto l'albero, pu 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 pu, è il Natale perfetto, no, 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 mi sono scordato giusto il tacchino, il tacchino, no! Papà, te l'avevo detto! Cosa ridi? Fuoco, fuoco! Aspetta, l'estintore, l'estintore! Bravo, no, hai rovinato il Natale, molto bravo! Senti, stai zitto, che tu sei andato alla porta, potevi guardare tu il tacchino! Come infilati dentro! Infilati dentro! Newt, tu ne sei qualcosa? Newt? Cosa stai guardando? Col cappellino di Babbo Natale! E se non lo faccio? Ti ammazzo! Va bene, entriamo dentro! Cosa ci sarà mai lì dentro? Tutto buio qua! Sei sicuro, l'occhino? L'occhino? Mi hai chiuso dentro, oh mio Dio! Auguri, papà! Ho messo il forno ventilato, così! Oh, oh! L'occhino? Non mi piace, sei uno scherzo! Ah, ah, ah! Cosa ti ammazzo? Cosa è successo? Ah! Ma che... Ha il tacchino! Beh, non è proprio bruciacchiato, ho visto qualche puntino nero sfumacchia ancora, guarda! Hai capito cosa succede ogni volta mi butti nel forno? Effettivamente no, non ci ha capito niente, però andiamo a metterlo in tavola, andiamo a mettere il tacchino in tavola, ah! Boom! Guarda qua, l'occhino sei troppo veloce per un bambino che non sa camminare, eh! Ci sediamo, ecco lui, è il posto di lui! Lui chi? Tu! No, tu c'è il cartellino che ho scritto tu! Effettivamente è vero, ma vabbè tu sei lui, lui, io sono tu! Mi siedo un secondo! Ah! Papà, mi passa il sale! Oh! Ma, cosa c'è? Eravamo troppo distanti, così siamo più vicini! Adesso mangia! Ok! Hai fatta tu la zuppa? Sì! Newt, puoi non guardarmi, per favore! Robottino, girati! Ok, mmm... Buona! Mmm... Ah! Che schifo! Scherzetto! L'occhino... Lo scherzetto si fa ad Halloween! Non a Natale! E adesso ti ho preparato un bel dolcetto! Testo di gatto, di coniglio e di capra! Buono! Perché è schifo! L'occhio, ma perché mi... Adesso continua a mangiare! Continua! L'occhio, basta, ti prego! Non ce la faccio più! Non ho fame, pensavo che il prezzo di Natale sarebbe stato carino, invece... Oh no! Ma è un giocattolo! Come faccio a mangiare un giocattolo, l'occhino? Ma è vivo! Ops! Gli ho dato troppo spirito natalizio! Va bene, mangiamo! Mmm... Buono! L'arrosticino, lo spiedini di gatto! Forse è meglio se non lo fai davanti a lui! Ok, ok, gattino! Va bene, non lo faccio! Il tuo biberone! Ma il latte è per Babbo Natale! Possiamo fare un'altra volta? No! Bevi tutto! Ok, ok, ok! Mmm... 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 Buono! Ho detto tutto! Robottino? Robottino, cosa succede? Oh! Chi era quello? L'hai visto? Non scherzare con me! Mangia tutto! Mangia tutto! Robottino! Ma c'è un po' pazzo! Pupazzo! Oh mio Dio! Cosa sta succedendo? Perché sto congelando? Robottino? Non è divertente questo gioco? Robottino? Robottino, dove sei? Cosa sono tutti questi cartelli? Cartelli con scritto regalo? Ragazzi, non mi piace assolutamente! Commentate sotto con cosa vorreste voi! Glielo dico a Babbo... All'occhino Natale! Cosa vorreste voi per Natale? Scrivetemelo qui sotto nei commenti! Magari vi fa un regalino l'occhino! Chi lo sa! Se vi scrivete... Mmm... Non lo so! Perché mi ha messo qui fuori? Ma poi si sono spostato! Vi giuro che ho visto sto coso muovere la testa! Aiuto! Sto paurissima! E lui mi sta guardando! Ah, ma c'è dentro l'occhino? Guardate, eh! Ma mi giro... Guardate, lui mi sta guardando! Mi giro... E mi sta guardando! Tutti mi stanno guardando! Vedete? Adesso mi giro e tutti mi guardano! Ehi, 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 ehi! Cos'è? Fai una palla di neve! T'ho scemo! Più neve gli do, più si ingrandiscono! Va bene? Io me ne vado, eh! Ciao! Ciao pupa... Sì? Abbiamo fatto... Ok? Oh mio Dio! Ragazzi, vi prego, non è il momento! Sto cercando di festeggiare Natale con il mio figlio! Io e i miei amici abbiamo fatto la caccia al regalo! Oh mio Dio, di chi è sta voce? Ok, facciamo che non lo voglio sentire! L'occhino? Hai rubato i regali? Pezzo di schifo! Dobbiamo abbellire anche l'albero perché ci hanno rubato tutte le palline e ci hanno rubato anche tutti i regali! Facciamo la caccia al regalo! Chissà dove è il regalo! Abbiamo mangiato tutto, era tutto... Effettivamente il gatto era molto saborito! Molti dicevano sa di pollo! No, il tacchino sa di pollo! Oh! Abbiamo trovato un regalo! Non fa un po' freddo per essere in casa? Eccoti, finalmente il mio cospetto! Inchinati! E dammi il regalo! Ah, va bene! Va bene così? Sì! Il bambino esige regali! Li esige, non è che... Li vuole! Ah, non ti avevo avvisato! Ci sono anche i regali che si muovono! Che divertente! Non vedevo l'ora! Pezzo di... Vieni subito qua! Maledetto! L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso! Che sta succedendo, l'occhino? L'occhino? Oh mio Dio! Si sono mossi! Eh sì! Non si muovono soltanto i regali, ma anche i popazzi del neve! Come mai vedo casa un pochino più storta? Forse sei storto tu? Che cosa sta succedendo? Devi andare in cameretta! Va bene, andiamo in cameretta! Oh, le palle! Le palle di neve! Spavento! Ma sarà stato anche qua? Eh, scemo! Guarda che prendo il phon, eh! So come ammazzarti! Che effettivamente col phon lo scioglierei! Andiamo a prendere il regalino! Ecco! Oh, 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 oh! Perché si mi avvicina a quel posto lì, guardate? È tipo radioattivo! No, no, no! Non ci voglio stare! Posso lanciarlo giù? Torno giù a prenderlo! Guardate cosa mi tocca a fare! Testa di pupazzo di neve! Testa di pupazzo! Si può dire testa di pupazzo, no? Oh! No, c'è ancora più neve di prima! L'occhio qua si congela e hai aperto tu il soffitto! No, io! Eh, sì, io! Totti, ne regalo! Quanti ne vuoi ancora? Ne mancano pochi, dai! Mi posso scaldare qua, sono al sicuro! Se lui si avvicina al pupazzo di neve, qua brucia! Vabbè, quindi mi avete lasciato un mi piace! Perché facciamo un altro episodio di Natale! Non è solo questo! E poi dovete dirmi il vostro regalo preferito! Vediamo se c'è un altro regalo! Oh! Testa di pupazzo! Ti vedo! Non sei nascosto! Ti vedo benissimo! È inutile che ti nascondi! Non vedo l'ora che arriva l'estate! Ah! Vedite cosa ti succede! Sto camminando sempre più lentamente! Mi si stanno congelando i piedi! Forse dobbiamo fare in fretta! O forse il regalo è pesantissimo! Aspetta, mi riscaldo un attimo qua! Sarà il solito episodio di... Di Locchino in giello! Certo! Io non mi aspettavo tutto questo! Ve lo giuro! Locchino ti ho portato un altro regalo! Mi ingino... Ah! Che ho... Ah! Che ginocchia! Ecco! Ah, sei felice! Sì! Ho di nuovo tutti i regali! Adesso ammazza il pupazzo di neve! Mi sono rotto! Ah! Ok! Vabbè! Apriamo il primo regalo! Una pistola giocattolo! Oh mio Dio! Papà! Vedo tutto storto! Ok! Newt! Fermo, eh! No! Newt! Aspetta! Aspetta! Rimettiti così! Oh! Ecco! Oh no! Newt! Che carino che sei! Sembra un Rainbow Friends! Posso mettere anche a lui? Cioè, qualsiasi cosa posso mettere... Ogni cosa può avere una faccia adesso! Tipo anche lui! Ma posso fare il trono con gli occhi? Bellissimo! Sembra tipo una linguetta che sceglie... Ecco la bava! Apriamo il prossimo regalo! Cuscini scureggia! Oh! Che schifo! Posso prendere questo? Uh! Che schifo! Ecco! Uh! Che puzza! Papà, non c'è bisogno del cuscino per farmi fare le putte! Sette! Ne hai fatto un'altra? Sì! Mi scappava! Dopo quei biscotti e il latte! Ok! Ok! Oh! Apriamo l'ultimo... Scusate! Apriamo l'ultimo regalo! Il martello gonfiabile! Pupu! Acchia pallocchino! Giochiamo ad acchia pallocchino! Sul seggio lì tu stai! E zitto non stai mai! Nel forno un bel arrosto noi tutti facciamo dai! E scoreggin! Scoreggin! Tu sei uno scoreggin! Come è stato, Locchino? Ti piace la mia canzone che ho inventato? Adesso mettiamo a letto il bambino! Ti porto su, eh! Va bene? È stato un Natale bellissimo! Grazie, papà! Ok! Se me lo dici con quel sorriso lì ci credo! Ah! Ti racconto una favola! 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 Però ti devo dire! C'è ancora un regalino per te! Davvero? Certo, Locchino! Locchino? Ah, ecco! Grazie! Me l'hai portato qui! Questo è il regalo da parte di Newt! Il robottino? Sì! C'ha un nome però... Vabbè! Te lo metto! Te lo do! Te lo metto! Te lo do! Oh! Grazie! No, Locchino! Stavo scherzando! Non è per te! Ti ammazzo nel sonno! Sì! È un regalo per Newt! Dai! Anche lui può... Ok! L'aveva detto che mi ammazzava nel sonno! Locchino? Stavo scherzando! C'è un altro regalo per te! Ma sì? Che cos'è? Eh! Te lo dico... A Natale! Ciao ragazzi! Come va? Tutto be... Pezzo di... Pezzo di pupazzo! Mi ha distrutto! Te l'avevo detto! Non dovevi scherzare con me! Ma è il regalo per Newt! L'hai bruciato! Dove l'hai fatto sparire? Sto congelando l'occhio! Non è bello! Non è bello! Scemo! O fammi passare! Fatemi passare da qualche parte! Non posso più passare da nessuna parte! Vero? Mi state bloccando così! Aspetta! Newt! Ti salvo io! Robottino! Oh mio Dio! È vero! Il robottino era morto! Ah! Vuoi più bene a Newt che a me? Ah! Aiuto! Aiuto! Oh mio Dio! È lui! Il mio mostro! Buon Natale! Quando arriverà il prossimo capitolo? Buone feste! Il contenuto stagionale è ora disponibile in tutti i capitoli! Il bambino vestito di giallo tornerà per un ultimo attito di follia! Dai! Ce ne sarà un altro! E guardate un po'! È qui! È Natale anche a casa di Locchino! Avete visto? È tutto addobbato! Nel prossimo episodio facciamo un video dove gli faccio tantissimi regali! Apri il regalo! Cosa c'è dentro? Una trottola! Uh! Oh mio Dio! Come gira! Io voglio... No! Non il cucino scoreggia! Voglio... È il martello! Pum! 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 Dov'è? Dov'è lo sparaocchi? Eccolo! Pam! Pam! Guardate quanti occhi posso mettere! Tantissimi occhi! Lasciate un mi piace! Ci vediamo nel prossimo episodio del papà migliore del mondo! Ciao! Buon Natale! No! Non ci siamo messi il vestito! Che stupido! Nel prossimo lo facciamo!